Non è futurismo e neanche futuribile. L'intelligenza artificiale è già qui. Aleggia da qualche parte nel mondo della scienza, ma è pronta a spiccare il volo e a pioverci addosso con il suo enorme carico di nuove opportunità, ma anche di problemi. Potrebbe sostituire molti dei lavori che conosciamo e dei lavoratori. Ma la domanda che poi tutti ci poniamo è, fino a che punto? Potrà, per esempio, restituirci il sapore amaro e controverso di una guerra, di tutte le guerre? È probabile che una risposta certa non ci sia ed è altrettanto probabile che il dubbio in realtà sia la miglior risposta. Comunque, le domande bisogna farsele e in qualche modo sono venute fuori anche al primo festival di giornalismo e fotografia organizzato a Pescara dai premi internazionali Flaiano. La giornata è iniziata alle 10 del mattino al Media Museum con la straordinaria lezione di vita e di vite di Monica Bulai. Immagini capolavoro, le sue, che parlano il linguaggio giornalistico, ma anche quello dell'arte. Poi, nel pomeriggio, appuntamento alla Cinema Circus con due grandi inviate, Gabriella Simoni e Giovanna Botteri. Sollecitate nel loro racconto dalla fotoreporter Romina Remigio. Domani, quando sarà, quando saremo tutti sostituiti, piccoli e grandi, che cosa mancherà del vostro lavoro alle intelligenze artificiali? Vado io o vai tu? Vai tu. Tutte e due. L'umanità, l'occhio, l'attenzione, la curiosità, l'anima, la passione, la vita, la voglia. Tutto quello che non è artificiale. Noi non siamo artificiali, come si può ben vedere. E quello, quello, nessuno sostituirà mai. C'è stato un momento in cui ci hanno detto che il fatto che ci fossero dei telefonini, dei cellulari, che potevano sostituire i giornalisti, è vero. Noi arriviamo sempre tardi, ma bisogna che arriviamo per capire quello che è vero e non è vero. Nessuno potrà mai sostituire un mestiere fatto bene. Il fatto di andare, verificare, raccontare, essere testimoni, mancherà sempre. Come quando vai sul navigatore e chiedi la strada. È utile? Perché è utile? L'intelligenza artificiale è utile. Ma vuoi mettere la strada che ti indica il navigatore con quella che conosci tu, con le stradine, così arriverai sempre primo. Arriverai sempre con meno tempo. Farai sempre la strada che nessuno sa fare. Ed è questo il lavoro nostro. Conoscere il terreno e mostrare quella strada e quel percorso che non è la mainstream, che non è quella illuminata, che non è quella che tutti ti dicono di fare. Ma che è importante e che ti porta nello stesso luogo dove devi arrivare. Qual è il paese che vorreste ancora raccontare e che non avete ancora raccontato? Vorrei riraccontarli tutti perché ci dimentichiamo troppo spesso di quello che abbiamo raccontato. Noi andiamo ormai per filoni, no? Raccontiamo all'infinito una cosa finché a un certo punto scompare. Ecco, io credo, ed è quello che vorrei fare in questo momento, tornare lì dove siamo stati a lungo per vedere come vanno le cose e per fare quello per cui sto facendo questo mestiere e ho cominciato a farlo tanti anni fa e cioè andare a raccontare quello che la gente non ha voglia di sentirsi raccontare. Sicuramente ci sono luoghi che hai conosciuto e vite di persone che hai attraversato e a cui devi tanto che probabilmente non hai dato niente che sarebbe importante perché è con le vite delle persone che si raccontano i posti, si raccontano le storie e riuscire in qualche modo a raccontarle con la profondità del tempo ti dice molto di un paese, di quello che succede, di come la gente cambia, di come il mondo cambia. Non so, io penso adesso a Sarajevo. E' appena morto un ragazzo che era nato a Sarajevo un anno prima della guerra, io ero là e lui faceva l'operatore per la televisione per France Press ed è morto in Ucraina e tu pensa alla storia di questo ragazzo che nasce in una guerra, che scappa dalla guerra per poi fare il testimone e raccontare un'altra guerra e morire in un'altra guerra e in questo c'è la storia sua ma c'è anche la storia nostra.